Anticipazioni Beautiful. Trama puntate lunedì 9 agosto 2021. Steffi non vuole prendere le medicine. A un tratto riceve una telefonata da parte del dottor Finnegan che le suggerisce di assumere con regolarità gli antidolorifici. Più tardi arriva Thomas con un bellissimo bouquet di fiori. Steffi sorpresa apprende che si tratta di un regalo di vinni che ha sviluppato una vera e propria cotta per lei. Brooke passa da Ridge per dirgli che si recherà da Bridget per qualche giorno. Lo stilista le assicura che niente e nessuno potrà più separarli. Quando la Logan se ne va però lo stilista non fa che pensare alla notte passata a Las Vegas con Shauna. Alla casa sulla spiaggia Shauna trova Wyatt e Flo abbracciati. Felicissima augura loro il meglio. Lo Spencer orgoglioso della sua amata fa capire di volerla sposare presto. Flo curiosa chiede alla madre di essere sincera con lei una volta per tutte. Cosa è accaduto a Las Vegas tra lei e Ridge? Shauna racconta di avergli riservato un trattamento molto speciale e di non riuscirli a stare lontano. Flo insiste, vuole qualche dettaglio in più e cerca di capire se sono finiti a letto insieme. Ciao! 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 Grazie.